Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenute nel mio canale. Allora, quest'oggi ho deciso di farvi un nuovo video diverso dal solito. Fino ad adesso avete visto le mie due videoricette che vi ho caricato. Quest'oggi invece, questo video è particolare perché siamo con un ladro in casa. Ebbene sì, ho deciso di fare questo video in collaborazione con Denigo. Iscrivetevi al suo canale che è qui presente, sì. E siccome fa i suoi video un po' misteriosi sul suo essere, ha deciso di mascherarsi solo per voi. Allora, bene, ci ridimensioniamo. Quest'oggi andremo a fare una challenge davvero particolare. Perché? Perché andremo a provare il nuovo Rischia il Gusto. Quindi questa è una challenge, quindi non più un tutorial, su Rischia il Gusto Hot. Quindi nuovi gusti, tutti peperoncino. Vi vado ad illustrare cosa potremmo trovare. Allora, in questo pacchettino... Sta soffocando Denigo. Non vi morire in diretta. Ecco. Nel mio video non voglio mosci. Allora, dicevo. In questo pacchetto possiamo trovare o fragola, o peperoncino atomico, o limone, quindi buona. Come no limone? Ho bomba calabrese. Sei pronto? Andiamo giù in Calabria. Ho mela verde e lingua infocata. Vi faccio vedere. Diciamo che, a differenza di altri Rischia il Gusto, qui ce ne sono solo tre, ma sono più potenti. Perché, come è illustrato da un ragazzino qui in foto, si promette bene. Iniziamo lo spacchettamento. Allora, lo facciamo con la ruota? No, andiamo a caso, è vero? Vediamo. Allora, facciamo che chi trova la caramella buona decide quale caramella colorata provare dopo. Ok? Non vi bannare il video, per favore. Che favole. Iniziamo con lo spacchettamento. Allora, troviamo un'officina ed edicola. Cosa sarebbe? Vabbè, ragazzi, c'è un libricino strano con dei giochi. Vabbè. Ecco qui! Eh sì, adesso si è... Non so che questo è piccato, lo vedo. Sì, certo. E poi la nostra solita ruota. Quindi ci sono... Mostra queste cose all'interno. Quindi ruota, libricino e caramelle. Abbiamo finito. Quindi l'interno è ruoto. Cominciamo la nostra vera challenge. Ci vediamo dopo. Bentornati con noi, ragazzi. Allora, come dicevamo... Sì. Come dicevamo, eccoci qui per la challenge. Questo è il pacchetto di caramelle. Vado ad aprirlo. Le caramelle le appoggio qui sul nostro ripiano. Quindi sono buose. In nostro... Ma che c'è? Va bene. Il nostro aiuto c'è il mitico latte. Facciamo anche pubblicità. Ciao! Per le collaborazioni. E i nostri due bicchieri. Nel caso... Sì, non ti si vedono manco gli occhi adesso. Come mangi vorrei capirlo. Vabbè. Ok. Iniziamo subito. Facciamo una breve ruota per vedere chi inizia. Vai. Sì. Che cos'era questa cosa? 5 più 2 sono 7. Pertene da me. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi io decido la prima caramella. Non so se ti va andato così tanto bene. Cominciamo con le rosse. Presa. Prendi. 3, 2, 1. Mi sa che mi va male, raga. Ictun in corso. Mi stai per morire. È piccantissimo. Però sopportabile. Questa è sopportabile. Oh, ok. Devi decidere tu. Che cosa hai trovato? Piccante? Sì. Vuoi parlare? Non è che... Piccante. Bene, ora chi decide? Decide voi. No, scriviamo. Apriamo un televoto. Va. Per parco 10 ore decidi tu. Quale prendiamo? La verde. Fa vedere. 1, 2, 3. Io l'ho già masticata qua. Mi sa che questa è buona. Sì. Ho trovato la mela. No. Non lo so. Io mela. Oh no. Serve il latte. Ho trovato la lingua infuocata. Va meglio. Allora. Vai sempre tu. Perché ho trovato quella brutta. Mostra. La gialla. Ce ne sono poche le gialle. Buonissima. Anche a me era buona. La limone. Ok. Ok. Quindi adesso chi decide? Andi tu. Ok. Dai rossa. Fate più qua. Se non ti vedo. Buona. Questa sa di piedi. E' una fragola scaduta. Sa di piedi. Però è buona. Non per dire che sono buoni. I piedi. Vabbè. Bene. Adesso come facciamo? Se io dico giallo. Ce ne sono una. Quindi. Facciamo io. E ce lo spareggio poi della rossa. Dai fai una rossa allora. Tu una rossa. E una gialla. Che figata. Era buona. Manca me. Tutta di limone. Andiamola a vedere. Va bene. Fino adesso hai trovato qualche brutta. Due. Com'era? Piccante? Tutta è buona. Questa era buona. Ancora rossa. Di razza ce ne sono parecchie. Ci sarà qualche fregatura. No. Tutto è buona. Davvero? Non c'è divertimento. E' un pacchetto strano. No. Comunque quella. Era veramente atomica. Quella che. La lingua è infocata. Roba brutta? Sì. Vuoi del latte? Sto ministriando del latte al mio cu... Ah! Al mio cuoricino. Sì. Anche sui pantaloni. Sì. Va bene. Vesca a bere così. Bello. Sembra un incarcerato. Allora. Ancora guarda. Sono tutte rosse. Quindi. Proviamo. Non riguardare quelli che si scaventano ai miei amici. Ci stiamo scolando un litro di latte. La volevo io quella. Allora. Questa è buona. Ragazzi mi ha fregato la caramella. Perché è buona. Ora mi riusci. Ma hanno lasciato quella giusta. Però perché è la fragola buona? Sai i piedi? Ma non sai i piedi. Un pezzo di piedi. Va bene. Adesso come speciale mangeremo questo. Bene ragazzi. Che dire. Questo video è terminato. Denigo. Denigo. D. A. N. Y. G. O. Denigo. Tutto attaccato. Denigo. Faccio gameplay. Video su forum. Iscrivetevi. Sono troppo bravo. Denigo. Ok. Guarda che non sono inalfabeti. Lo capiscono l'italiano. Allora. Questo video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace sotto questo video. Che dire. Noi ci vediamo al prossimo video. Credo che ci saranno parecchie collaborazioni che ti vorranno. Sì. Bene ragazzi. Allora. Se questo video vi è piaciuto. Dicevamo. Lasciate un mi piace sotto questo video. Sì. Sotto questo video. Iscrivetevi. Mi raccomando. Sì. Sotto questo canale. Per altri aggiornamenti. E anche al suo canale. E noi ci vediamo al prossimo video. O alla prossima collaborazione. Se vi è piaciuta questa collaborazione. Mi raccomando. Commentate qui sotto. E fateci sapere. Quale altra challenge volete. Vero? Sì. Ciao.